a fine maggio il popolo marchigiano ha chiamato a votare ed è per questo che sono sceso in campo come dice la parola stessa sto facendo la mia campagna elettorale anche perché io penso che ha fatto meno danni un contadino con la zappa che tanta gente con la bocca e con la penna e poi se è candidato tantissima gente quindi non mi posso candidare io che mi manca assolutamente niente allora innanzitutto la mia campagna elettorale è una campagna semplice senza fronzoli incontaminata pura come lo sono io perché io sono un grezzo e ho fondato un partito radical grezzo e ne siamo tanti ad essere grezzi quindi è arrivato il momento di uscire fuori noi radical grezzi non sopportiamo più i radical chic basta con la fuffa noi vogliamo le cose con greve quelle ci piacciono allora noi vogliamo andare in giro con la macchina e ascoltare la musica soffrecento d'eggmail bella forte dappertutto in piazza quando è pieno di fronte agli ospedali di fronte alle chiese sempre e comunque noi vogliamo che il vestito della domenica diventi finalmente uno stato simbolo importante importantissimo dopo finisco mangiare comunque dopo mangiare allora noi siamo quelli che il limone dell'arrosto lo mettono nel bicchiere d'acqua frizzante a fine pranzo a fine cena perché rifresca e sgrassa è inutile che mi guardate perché mica mi abbasso ad offrirvelo me lo bevo io ok noi non vogliamo più andare a vedere i film de se anche perché de se non si capisce che film è chi è il regista chi è l'autore a noi ci piacciono i giri panettoni punto noi vogliamo andare a giocare a calcetto con la maglietta del nostro club preferito con il nome del nostro giocatore preferito dietro anche se hai 50 anni anche se hai la pancia anche se a fine partita a calcetto te mangi una carbonara noi vogliamo che l'autogreen diventi un luogo di cultura anche perché io lì ho comprato tantissimi libri tantissimi e finalmente vogliamo nel 2015 fare delle vacanze belle nei resort dove tu stai sempre lì dentro e con il braccialetto prendi tutto da mangiare da bere tutto quanto quindi vota Radica Grezzo vota perché io parlo come mangio so come mamma mi ha fatto domandare legito rispondere cortesia e soprattutto chi se fa i cazzi sui campi agendari guarda Radica Grezzo guarda Radica Grezzo